Sono andata in direzione? Sì, ci andiamo. Tranquillo. No, però controlla. Io ho trovato la Plaza San Pedro. Senti, se vuoi guardate, puoi guardar qui. Adesso io prometto. Ti guarda San... Sì, sì. Vi faccio fare il sightseeing di Sevilla. Ti guarda avanti. Sightseeing. Alla vostra, in schierta, potete vedere. Ecco, si sta a vedere. E' lì, sta a guardare a sinistra. L'album, non frega. Già che prima abbiamo avuto, diciamo... Emma! Oddio. Sì, sì, è vero. Proprio adesso va al giro. Tanto nel primo giorno siamo andati in due parcheggi coperti. Ma che presto. Non è questo? Porca, tra l'altro. No, all'inizio degli oddi. Fermiamoci un attimo a mangiare. Appena arrivare a Granada, non è ancora la voce. No, sto a fare un video. Appunto. No, ma no, della carta, scemo. Guarda. Oh, noi siamo qua, no? Dovemmo arrivare su quest'altro foglio. Esatto. No, noi siamo qua. No, noi siamo qua qui. Ma come tutta la strada. La strada è, è... 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 È rojo. È rojo. È rojo. È rojo. Ah, qui lavo da, vende No, no, no No, no, no Grannada No, ok, dai, ok Ok, chui ok Ok Ok, chiedo Perdona Por Grannada Por che lado entro io ok para Granada ora, para para Granada eh para la escusa ti è la autostrada è difficile no no, è è una è una è una qui ora siamo qui siamo qui Geronimo di Córdoba è questa è questa la cosa la cosa tua devi arrivare qui è una la 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 Ecco lo qua, esattamente A destra e poi a sinistra Sì, io per diritto, sì, sì, sì E adesso vado a destra Perché? No, a sinistra Sinistra Chi sa che via di quella? Chi dà al taxi? Ma come chi dà al taxi? Sì, ci fanno sempre, perché vanno Perdona, para Granada A chi o a chi? A chi o a chi? Ah, là Sì, ok Sì, 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 grazie Dopo quando arriviamo alla stazione ci sembra Malaga Oh, grazie Quando arriviamo alla stazione ci sembra Dunque se non le ha detto che guapa Eh no Che guapa Raggiungeremo mai Granada Per le dieci l'alambra Li porteremo lassù con la magra Dai, dai Questo vuole morire Oh, questo sparpolato Sparpolato Qua vero Si Ma non gli puoi dividire se lui te cuidava A me no Ma Certo C'è uno Ambe Dice Ok, ok, ok Ci stiamo Siamo qui, guarda Sì L'arguio Sì, sì, siamo qui Quanto siamo forti i mammi Come l'aceto Andalusia ormai è nostra Poi c'è il Parlamento Come si chiama il fiume di Siviglia? Il rio Cattalchivir Sto troppo, è difficile Cattalchivir È l'unico che ti insegna quando studi La geografia alle medie Che insegna? Il Tago Che bello Per dare Lisbona Ha mandato più o meno 18 colpi Potenza un suivo L'amico nostro Ma che cazzo fai? Ma che c'è? Non si fida Piasti cambi di direzione C'è questa manina Tutta questa autonomia Siccome non è che siamo così Prendate su quei paesini Le caperugne L'Alpucarras 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 Facevamo i giri intorno alle rotatorie Perché non sapevamo le direzioni Allora giravamo I peggio paesini In strada Che c'è passava solo una macchina E giravamo intorno alle rotatorie La gente ci suonava Noi manco perché C'è lo dicerà Io toto un reto Che siamo alla rotatoria enorme di oggi Sì Alla stazione Ponte Ponte